Si chiama un ponte tra banche e imprese, ed è il nuovo progetto della Camera di Commercio di Firenze per favorire il dialogo tra istituti di credito e imprenditori. L'intesa è stata siglata da 17 tra banche e consorzi fidi. Il primo step del progetto prevede un programma di formazione per diffondere una maggiore cultura economico-finanziaria tra le PMI fiorentine. Il secondo riguarda l'orientamento vero e proprio riservato agli imprenditori. Il terzo è invece la possibile attivazione di plafond dedicati a specifici progetti del sistema camerale individuati in collaborazione con ogni banca o consorzio. Hanno firmato l'accordo tra gli altri, Banca CR Firenze, Monte dei Paschi di Siena, BNL e Unicredit. Con tutti questi soggetti la Camera di Commercio sta lavorando anche per creare un database complessivo nel quale gli imprenditori possano scegliere in un unico luogo virtuale il prodotto finanziario giusto per la propria impresa. Partiamo da un semplice fatto, più troppe volte si sente parlare delle imprese e non riescono ad avere un rapporto con le banche, mi sembra una cosa abbastanza normale, tutti si lamentano. E molte volte le banche dicono che noi siamo disposti ma non è vero, è falso il contrario. Quindi noi si dice che se sono veri questi due epifasi noi dobbiamo metterli insieme. Uno risolvendo il primo dei banalissimi temi che non sono strutturali ma sono di comunicazione. Cioè uno parla inglese e l'altro parla tedesco, tutti e due che dicono cose giuste ma non si capiscono. Noi vogliamo trovare una lingua omogenea.